bravo Bruno bravo Bruno 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 si ahahah si mi sono ahahah abbiamo fatto un culo classe perchè faccio un video io lei sta qui questa è il cappinologo dai 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 via dove è l'altro ragazzo? è andata a fare la luce? è andata a fare la luce quell'altro ragazzo? è il tavolo è al tavolo i pulini vediamo male